Ehi capo, sono venuto appena avuto il messaggio. Siediti Tom. C'è una tarpa. No. Chi? Sono rimasto sveglio tutta la notte per cercare di capirlo. Potrebbe essere uno dei nostri picciotti che non si sente pagato abbastanza. Qualcuno con le tasche leggere, che magari spera di remettersi in sesto con Morello. Frank non c'era. Ho cercato i libri contabili nella cassaforte per provare a capire a chi potrebbe essere. Cosa ha scoperto? Che i libri sono spariti. Frank. Lo conosco da cinquant'anni. Tutto ciò che ho lo devo anche a Frank. Ogni dollaro guadagnato, ogni centesimo speso è documentato in quei libri. se Frank li porta ai federali siamo fregati. Se c'è qualcuno in città che ha il rispetto di Frank, quello è lei. Deve essere tutto un grosso malinteso. L'ho chiamato parecchie volte. Sono andato a casa sua. È sparito. Insieme alla moglie e alla figlia. Ma perché? Non lo so. Di sicuro avrà i suoi motivi. Magari è... ancora per la storia del cane. Che lei ha cercato di annegare. Sì. Quello a cui ho sparato dopo che me lo ha impedito. Ero uno stupido ragazzino, Tommy. Ma quello che importa è che ci riprendiamo quei libri. Spremi tutti gli informatori. Scopri cosa sanno. Quando avrai trovato Frank, avrai trovato i libri. Se per caso non dovesse averli, ti farei dire dove sono. A quel punto farai quello che devi. Vincenzo ti aspetta con un'auto pulita. Oggi non è giornata, Tom. Oggi non è giornata. Ed ecco qualcosa di speciale. Se ti interessa. Quando Frank vedrà la lupara, capirà. È la tradizione. Non è으면ale. Be pulita. Vi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'FBI è in città. Sono andati da Morello, ma non so per quale motivo. Come lo sai? Little Tony ha riaccompagnato a casa un tipo che ha fatto ubriacare al Black Cat. Parla con lui. Ne sa di più. Ok. Grazie. È sempre un piacere, Tom. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. Direi di no. Cos'è questa storia che hai riportato a casa uno che sta coi federali? È venuto a bere e ha un po' alzato il gomito. Ma ha assunto degli uomini a protezione di una specie di nascondiglio. Dove? All'angolo tra Hawkill e Pine. Mi ha dato 10 dollari per portarlo lì e tenere la bocca chiusa. Mi ha detto che l'assessore Ghillotti ha negoziato un accordo tra Morello e l'FBI. Penso che stessero aspettando qualcuno lì dentro. Perché diavolo non ce l'hai detto? L'ho fatto, Tom. Sono andato subito da Frank. Non l'ha detto al Don? No. No, non l'ha fatto. Tom. Che succede? Un tempo qui c'era una porta. Bussavi tre volte. Mostravi le gambe e bevevi gratis tutta la sera. We return now to the coverage of Game 7 of the Gold Series. And by the looks of it, ladies and gentlemen, will be underway any minute now. La solitudine non è un problema. Davvero. Non sento lo mancano. Il più delevante. La solitudine non è un problema. See? That's what a good captain does. The cannons' line up is meandering over to the home team dugout. The Lancers are slowly taking up their position so we can't be too far away from the opening pitch. Here at the armory. The home of the Empire Bay cannons. Stay with us for more. Too long. Come on. No, 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 let's go. Come on. Come back. Oh! Il posto è questo. 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 Il posto. Il posto è questo. 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 Il posto è questo.